Paziente che si alza, questo succede il giorno dopo l'intervento di protesi di caviglia, il paziente prende contatto con il suolo, atterraggio, appoggia il piede in terra, questa è la cosa importante, piegare il ginocchio, mentre appoggia lei piega il ginocchio, si cammina il giorno dopo l'intervento, appoggi per bene, metta il peso sul piede, vada avanti e faccia questo movimento, esatto, deve piegare la caviglia, appoggi e pieghi, appoggi, avanti, pieghi, mentre sta così pieghi, pieghi il ginocchio, ecco, questa è la cosa importante, appoggiare e piegare con il peso del corpo, un altro passo, perfetto, torniamo indietro al letto, perché il giorno dopo non vorremmo mai che uno si sente male, quindi bisogna fare questi movimenti sempre accanto al letto per correre subito distesi nel caso uno si sente male. Il dolore è molto ben controllato e il movimento sembra da subito abbastanza naturale. Grazie.